Provincia di Teramo e Parco Nazionale Gran Sasso e Monti della Laga insieme per tre concerti al tramonto sulla montagna teramana e l'iniziativa Gran Sasso in Musica Spettacolo e Natura con un ensemble di fiati del Conservatorio Braga di Teramo. Si parte sabato 13 con lo spettacolo alla cona di San Sebastiano a Isola del Gran Sasso a cui seguiranno le performance al piazzale Amorocchia Prato di Tivo del 14 agosto e quella di Ferragosto all'abbazia di Santa Maria di Ronzano di Castel Castagna. Tutti i concerti avranno inizio alle 18.30 e si protrarranno fino al tramonto. L'iniziativa alla prima edizione intende animare anche il territorio montano durante il periodo estivo con iniziative di pregio artistico e culturale che siano in grado di richiamare l'attenzione su luoghi di assoluto valore paesaggistico e storico. Il concerto dell'ensemble di fiati del Conservatorio Braga diretto dal maestro Federico Paci eseguirà un repertorio che spazza dagli Abba Gold alle musiche composte dal premio Oscar Ennio Morricone fino alle colonne sonore di James Bond e dei Pirati dei Caraibi.